Ritorno all'appuntamento con tra le righe consigli di lettura ma soprattutto l'incontro con i diretti interessati, coloro i quali hanno scritto un libro, hanno raccontato delle storie. Parte la seconda stagione di tra le righe, partiamo con un libro edito dalla San Paolo, un firmato scritto a quattro mani da due giornalisti, sono Toni Mira e Alessandra Turrisi. Alessandra è in collegamento Skype con noi, Palermitana, giornalista freelance, collabora con l'Avvenire e con il Giornale di Sicilia. Ciao Alessandra, benvenuta. Sì, grazie, grazie per l'invito. Allora avete scritto a quattro mani con Toni, dalle mafie ai cittadini, la vita nuova dei beni confiscati alla criminalità, con una copertina molto interessante, una pianta, dentro c'è un fucile, un mitra, questo proprio per dare un po' il senso di quello che avete fatto, raccontare belle storie di solidarietà, prendo a prestito le parole scritte nella prefazione per raccontare appunto della nuova vita di questi beni confiscati alle mafie. Posso chiederti brevemente di spiegarmi da dove è nata l'idea, perché avete scelto di scrivere questo libro a quattro mani con Toni Mira? Sì, l'idea nasce da questo. Per lavoro ci siamo trovati a raccontare veramente tante storie nei nostri quotidiani di realtà che sono state strappate alla violenza mafiosa, beni immobili, ma anche imprese, terreni, e che poi hanno avuto una nuova opportunità di rinascita, di riscatto, di riscatto sociale e anche di riscatto economico. E allora ci siamo detti perché non raccontarli tutti insieme, chiaramente sono soltanto degli esempi, sono dei casi simbolici, ma che danno idea della complessità di questo mondo, un mondo che spesso resta sotto traccia e se ne parla soltanto se poi ci sono delle intimidazioni, degli incendi nelle coltivazioni, ma poi tutto il bene che fanno, il bene che fanno al territorio, questa pianta che germoglia e che cerca di soffocare il ricordo del Mitra, del Kalashnikov, della violenza, spesso resta sotto traccia. Allora abbiamo pensato che poteva essere una idea interessante, a partire soprattutto dalle storie dei protagonisti, cioè dalle storie di coloro che poi sono il vero volto di questa seconda vita, spesso sono delle associazioni, c'è di mezzo Libera ovviamente, c'è la Chiesa, ci sono le diocesi, ci sono associazioni laiche, c'è la Gesci, sono veramente tantissime le realtà coinvolte, grazie alle leggi che nel tempo hanno consentito di fare tutto ciò, perché non dobbiamo dimenticare tutto da dove nasce, cioè dalla legge Rognoni e la Torre che consentì la confisca dei beni ai mafiosi e poi nel 1996 la legge per l'uso sociale di questi beni confiscati. Esatto, l'uso sociale di questi beni confiscati, perché la mafia si combatte non solo arrestando i criminali, arrestando i boss mafiosi ma anche chiudendo i loro rubinetti, le loro risorse economiche. Tu sei palermitana, sei siciliana, quindi io mi soffermerai in particolare con te Alessandra sulle storie che riguardano la tua regione, il tuo paese. Una riguarda il turismo, mi piace il sottotitolo che avete dato a questo capitolo, Turismo batte mafia 2 a 0 e riguarda un albergo, il San Paolo Palace di Palermo, da come dire simbolo dell'illegalità, simbolo della criminalità, a un albergo che ora è stato rinnovato, cambiato, ristrutturato e soprattutto fa lavorare tante persone. Sì, possiamo dire che è una struttura modello in questo senso. Vi racconto brevemente di cosa si tratta. Il San Paolo Palace è una sorta di grattacielo di 14 piani, proprio di fronte al mare di Palermo, con una piscina in cima. Questo bellissimo hotel era stato costruito e apparteneva ad un imprenditore di Ile, Giovanni Ienna, che sostanzialmente era un prestanome dei boss Graviano. Pensate che una suite, tantissimi anni fa, era in uso alla madre dei fratelli Graviano, che per intenderci sono i mandanti dell'omicidio di padre Puglisi, ma anche degli attentati che ci sono stati nel 1993 in Italia. Ecco, questo bene rischiava di essere chiuso, di perdersi, come a volte succede purtroppo in tantissime imprese che non riescono poi a camminare con le proprie gambe. Invece l'assegnazione a un direttore che sa fare il proprio lavoro e sa rendere questo hotel competitivo sul piano commerciale, garantisce tantissimi posti di lavoro, ma anche la possibilità di rinnovarsi. Quindi hanno fatto degli investimenti per rinnovare gli arredi, in grande sinergia con l'Agenzia dei beni confiscati, facendo lavorare altre imprese che erano state confiscate, e che avevano le professionalità per poter svolgere, per esempio, i lavori di manutenzione edile. Questa è veramente una storia emblematica, che dà l'idea di come il bene può nascere dal male. Esatto, ti confessavo a microfoni spenti la difficoltà nel riuscire a sintetizzare, è impossibile sintetizzare tutto quello che voi avete raccontato in questo libro, perché sono tante le storie, tanti gli spunti di riflessione, anche le parole, le testimonianze che riguardano i diretti interessati. Mi parlavi anche di questo ex bunker che lega in qualche modo gli scout in un anniversario importante per loro. Sì, c'è un terreno molto molto bello ad Altarello, che è una zona periferica di Palermo che si arrampica verso Bocca di Falco, dove c'è la pista di elicotteri sostanzialmente, che era in mano ad una cosca mafiosa. Forse i nostri ascoltatori e spettatori hanno sentito parlare dei cosiddetti scappati, cioè i mafiosi che poi sono andati in America durante la guerra di mafia a Palermo. apparteneva a questo ambito ed è stato assegnato alla GESCI. Lì è stata realizzata la base Volpe Astuta e non solo con dei finanziamenti statali, sono riusciti a ristrutturare un piccolo immobile, a renderlo proprio una base che ospita scout provenienti da tutta Italia, a volte anche con dei campi internazionali. che in questi giorni è molto vivo e vivace l'ambiente, ma anche riscoprire una camera dello scirocco, che è una struttura scavata nella roccia nei secoli passati, per garantire alle famiglie nobili che vivevano in questi luoghi un luogo di frescura nelle giornate torride che voi sapete in Sicilia, ma non solo in Sicilia, ci sono durante tutta l'estate. Ecco, questo veniva utilizzato come nascondiglio dei mafiosi, addirittura c'è un collegamento con i canat, che sono dei canali arabi con l'acqua che scorre dentro, tuttora visitabili, che venivano utilizzati presumibilmente come vie di fuga. La particolarità di questo luogo è che fu sequestrato addirittura da Giovanni Falcone, prima ancora che esistesse la legge Rognoni la Torre per la confisca, quindi fu soltanto sequestrato. Infatti c'è una fotografia che ritrae il giudice Falcone, che poi fu ucciso nel 1992 nella strage di Capaci, davanti al cancello mentre faceva le procedure di sequestro. Quindi è un po' la storia, è la storia che ritorna. Non avete idea di tutte le angherie che gli scout hanno dovuto sopportare in questi anni, sono 25 anni che loro sono presenti lì. Addirittura una volta nel 2012, mentre loro erano assenti, perché si trovavano ad una manifestazione per ricordare il giudice Paolo Borsellino, hanno fatto sparire, hanno fatto un buco nel muro e hanno fatto sparire tutti gli zaini degli scout prevenienti da tutta Italia che erano andati lì e risiedevano lì, si erano accampati lì. Alla fine non erano stati rubati, ma erano sparpagliati nei terreni circostanti, quindi si trattava proprio di uno sfregio, di un sopruso, per far capire che comunque la mafia era presente e non li accettava, non li digeriva fino in fondo. Allora loro hanno voluto ancora di più affermare la loro presenza e il loro ruolo importante di riscatto di quel terreno. Hanno chiuso tutti insieme a questo enorme buco che era stato fatto nella parete e hanno scritto non importa quanti buchi farete, ma quanti saremo a chiuderli. Questo credo sia un messaggio bellissimo e molto importante. In conclusione, Alessandra, hai voluto dedicare questo libro alle vittime di tutte le mafie. Perché? Sì, perché io ero un'adolescente, andavo proprio gli ultimi anni del liceo quando nel 1992 Palermo fu sconvolta e tutta la Sicilia e posso dire anche il resto d'Italia dalle stragi di Capaci e di Via D'Amedio. Per la mia generazione quello è stato un punto di non ritorno. Abbiamo dovuto fare delle scelte delle scelte importanti di vita, di lavoro spesso non particolarmente convenienti dal punto di vista economico ma dal punto di vista etico importantissimo. E sono state proprio un po' ci siamo sentiti tutti vittime della mafia che era venuta a colpirci a casa nostra. Dunque il nostro legame con le vittime della mafia con i familiari delle vittime di mafia è un rapporto potrei dire fraterno filiale e dunque credo che tutte le volte che qualcosa germoglierà quindi che il bene trionferà sul male sarà un piccolo pezzetto di giustizia in più che sarà stata costruita. E allora consiglio di quale i nostri telespettatori il libro edito dalla San Paolo dalle mafie ai cittadini la vita nuova dei beni confiscati alla criminalità firmato da Toni Mira e Alessandra Turrisi che è stata nostra ospite in collegamento Skype a Tra le retiche. Grazie di cuore Alessandra per essere stata con noi auguri per il tuo lavoro continua a raccontare queste storie perché ne abbiamo davvero bisogno grazie Grazie e buona lettura Grazie